Ciao a tutti, sono Mohamed Salek e benvenuti in questo vlog, anzi nel mio primo vlog Ragazzi sono ad Alano di Piave in Treviso, sono qua con i miei amici che facciamo una piccola sessione di allenamento nel pomeriggio Guardate che sbarra e che panorama Sbarra adesso e andiamo a prendere i materassi così non ci facciamo male perché è tutto cemento sotto Esatto, sarà una sessione di freestyle E anche ora proverà il freestyle Esatto, mi insegneranno Primo tentativo, vediamo com'è questa sbarra Com'è il grip? No, è buono, è buono Ovviamente tutto a freddo Eh sì Ecco qua, abbiamo sistemato tutti i materassi così non ci facciamo male Mi è abbastata un po' la sbarra Per fare freestyle Ma facciamo vedere cosa facciamo adesso Pre-workout E poi ci scaldiamo per 15-20 minuti Cos'è che hai preso? È una monstra e un gusto strano, non so cos'è A che gusto? Non so, non lo capisco cos'è Io invece ho preso un energy drink di sottomarca Quanto l'ho pagato non mi ricordo, 29 centesimi 22 quella Eh? 22 centesimi 22 centesimi Ma voi dovete sapere una cosa Questi energy drink tarocchi danno molta più carica degli altri energy drink normali Quindi adesso lo provo subito Che non è male comunque Qua abbiamo un altro amico Isma Ciao ragazzi È lui che mi ha insegnato il tornado 360 Che oggi riproverò Vai mosso 360 Sono sì Buono, buono È rimasto con l'app Dro, puoi vedere l'ice? 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 Qual è ice? Guarda che rovetta Sì, brodi Sì, brodi Adesso lo faccio provare a tutti Vai, Bilal Ci proviamo Vai Vai È impossibile Vai, mosso, prova Vai Vai, Bilal Praticamente impossibile E che roba è Ma isma Niente Dico sì Dopo che hanno provato tutti Adesso vi faccio vedere come si chiude Non si chiude Niente altro Aia Oh, manca pochissimo Pochissimo Neanche oggi E adesso si continua finché non facciamo partire i calli Mosso, fa vedere la tua mano che è la più curata Una pala Chi è che è la mano più distrutta? Guarda che roba Vai, vai, vai Vai Chiudilo, chiudilo 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 Vai, gira Arpiona Arpion Sì Sì Per due Hez Dos Dos 360 Hez Ginger Aia Pro Front Aia Hez Hoi Sessione freestyle breve ma intensa Abbiamo terminato per Il freddo C'è un freddo caldo Sicuro che qua c'è molto freddo Anche i calli stanno partendo Da sei ragazzi si sono spostati sull'altra a sbarra Uno è già partito comunque Eccolo Eccolo qua Se scherzo non è una bella scena ma va bene Ragazzi buongiorno siamo al secondo giorno qua stiamo facendo colazione con i ragazzi Ciao ragazzi Sempre finta ma tanto Ce lo sai Comunque siamo abbastanza fit Dopo la colazione cosa andremo a fare? Vediamo testare Una bella stash fuori Quindi dato che è una bella giornata Esatto Potete vedere dalla finestra che c'è abbastanza sole Eccoci qua al secondo giorno per una seconda sessione potente Oggi si sta anche bene perché c'è un po' di sole Sono qua con i ragazzi Mosso Ciao ragazzi Ciao ragazzi E Bilal Bilal sta sbarra Da dove è arrivata? Ragazzi intanto mi presento sono Bilal Setworkout Penso che molti di voi già mi conoscono Esatto Questo sarebbe il mio premio della gara passata L'ho vinto nella gara Cup di Rimini Evole E questo sarebbe il mio premio Ottimo Adesso ci cacciamo una sessione bella pesante A breve inizieremo con delle sfide Yo guys Noi tre ci sfideremo Delle sfide non tanto toste Però molto divertenti Ok facciamo la prima sfida Che ho deciso io E la seconda sfida la deciderà Bilal Allora la prima sfida consiste nel front Fare il front tenendo un secondo di isometria E fare la pullata più alta possibile Ovvero full round Vediamo chi va più in alto Parto io 2001 Sono arrivato a 90 gradi Sono arrivato a 90 gradi Malissimo Vai Posizione 2001 Su Sì lui è andato molto più in alto di me 2001 Su Anzi è andato ancora più su di me Ok la prima sfida l'ho già persa io Il primo è stato Bilal che è andato molto più in alto Il secondo è stato mosso Parziale E il peggiore sono stato io Quello con i bracci più lunghi Adesso facciamo la seconda sfida che ha deciso Bilal che ce la spiega Andremo a fare 5 muscle up nel meno tempo possibile Ok seconda sfida Muscle up 5 muscle up nel minor tempo possibile A parte mosso ovviamente le regole già le sappiamo Gambe tese Muscle up deve essere completo Quando scendi devi distendere tutto 3 2 1 Via 1 2 3 4 5 Brava Allora 12 secondi E 20 1 2 3 Via Stop I quanti? No 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 L'hai fermato tardi Ho fermato tardi sì Caliamo un secondo quindi 11 secondi E comunque abbiamo riguardato il video Io ho fatto 10 e 46 Sì Per adesso sono il primo Adesso manca solo Bilal che partirà adesso Pronto? Prontissimo Do io il via 3 2 2 1 Via 1 2 Venti 3 4 5 10 e 91 Tecnicamente ho vinto io Sì Allora Primo sono io Secondo Bilal Terzo Io Io direi che il video non può terminare qua Faremo un'altra sfida Dato che la prima l'ho scelta io La seconda l'ha scelta Bilal La terza la sceglierà Mosso Che è dietro alla fotocamera Vabbè adesso ci penso Vediamo cosa Ok abbiamo già scelto la terza sfida C'è la scelta Mosso Che adesso ce la spiega Allora adesso ci metteremo a Candela In front Ok Chi fa la negativa più lenta vince Ovviamente fino ad arrivare completamente disteso Quindi da su ci do un piccolo esempio Sì 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 Allora si parte così Ok E si deve scendere Fino giù Ok Evidentemente possibile Dato che la sfida è tua Parti tu Ok È già staccato 3 2 1 Via Lento e più lento Quella è la parte semplice Aspetta aspetta Vai Massim Tieni 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 Vai 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 Quanto tempo Vediamo qua 21 secondi E 75 Vabbiamo Via 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 19 secondi E 33 Ok Abbiamo il terzo partecipante Già per adesso sto perdendo O arriverò a secondo o a terzo Adesso però partirò senza le scarte Quindi meno Zahor Leviamo la Zahor Via E fermarti Niente isometria Solo discesa lenta Allora Bilal ha vinto la terza sfida Sì È arrivato primo Secondo mosso che ha fatto 21 secondi E terzo io che ho fatto 19 Allora Bilal ha vinto due sfide Io una sfida Io nessuna È mosso niente È arrivato la seconda e basta Ok ora per un pan finale faremo 100 trazioni Non a testa ma 100 tutte e tre Parto io Io Siamo 50 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, dato che siamo dispari, io devo fare quattro serie. L'ultima serie la divido io e mosso. Ragazzi, il mio primo vlog giunge al termine. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like e commentate. E ovviamente condividete anche il video. E cosa più importante, iscrivetevi al canale. Io, come ogni chiusura di un mio video, faccio un flex. Quindi voglio un flex arrogante. Senza magna. Vai.